Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il calcio di Serie D, visto il maltempo, il Campobasso ha ripreso gli allenamenti a Napoli in vista della gara con la Recanatese che è stata posticipata a sabato 10 marzo. L'Olimpia agnonese invece è in attesa dell'ok del Matelica per posticipare la gara del Civitelle. Rinvio ufficiale per Campobasso Recanatese, la gara prevista per domenica prossima a 4 marzo si giocherà sabato 10 alle 15. Ricordiamo che la Lega Nazionale di Lettanti, in vista della tornata elettorale prevista domenica prossima e tenuto conto del turno di sosta, già programmato per domenica 11 per il torneo di Viareggio, ha lasciato libertà alle squadre di posticipare l'incontro a sabato 10, non la domenica, perché non si può giocare in contemporanea con il Viareggio. Previo ovviamente accordo tra le società che si sfidano nella 26esima di campionato. Ecco che Campobasso e Recanatese hanno trovato subito l'intesa sul 10 marzo, al contrario l'Olimpia agnonese è ancora in attesa della risposta del Matelica per il rinvio. La società marchigiana ha tempo sino a domani. In caso di riscontro negativo, il match tra agnonese e Matelica si giocherà regolarmente al Civitelle domenica prossima, 4 marzo. Squadre comunque a lavoro da oggi. Campobasso che ha ripreso gli allenamenti a Napoli, considerate le precipitazioni nevose, problema di location anche per i Granata, costretti ad allenarsi indoor. La giornata appena andata in archivio ha visto Campobasso e agnonese in buona forma, con la sensazione positiva che si possa migliorare da qui alla prossima gara. Problema gol per i Lupi, la prestazione contro il Castelfidardo è stata davvero di alto profilo. E' mancata solo la rete per certificare una supremazia territoriale e qualitativa abbastanza netta. Da valutare le condizioni di Augustus, uscito anzitempo, per lui si teme uno stiramento. Le condizioni del giovane saranno valutate nelle prossime ore. Buon pareggio per l'Olimpia agnonese a Recanati. Scontro diretto chiuso su un pirotecnico, tre pari. Importante non perdere. Un pareggio che cambia poco in classifica ma infonde fiducia nella squadra. Per ben tre volte in svantaggio, gli uomini di Mister Di Meo sono stati bravi a reagire. Nel finale poteva arrivare anche il colpaccio del 3-4 con Santoro. Intanto sospiro di sollievo per Madi Abuncelet. La presunta frattura alla mandibola, ipotizzata nel post-gara di Recanati, è scongiurata per il Colored, una forte contusione di gioco. Tornando al Campobasso, ai nostri microfoni, sentiamo il presidente Danilo Leone. La direzione di gara di Campobasso Castelfidardo le lascia la mano in bocca come le ultime recenti, vedi Francavilla o altre partite, lo giocate da poco. Non è che lascia la mano in bocca, purtroppo penso che voi avete filmato, avete tutto registrato. Penso che secondo me, anziché mandare in onda vicissitudini che succedono dal Campobasso, bisogna fare secondo me anche filmato tutto quello che ci sta accadendo, da Francavilla fino ad oggi. A parte i quattro mondi che sono stati tolti per cose società le vecchie. Analizziamo un attimo quello che ci stanno togliendo. Cioè oggi un rigore grande quanto una casa. Su balistrieri? Cioè su balistrieri, falli non chiamati, ammunizioni date come l'acqua calda, però va bene così. La vicenda evacuo, praticamente la vogliamo chiudere qui, perché c'è stata una polemica alzata su Facebook dal giocatore. Risposta sua? Ma evacuo purtroppo è un giocatore, io lo capisco pure, è un giocatore importante, si è escluso dagli 11 titolari più volte. Non rientrava a volte nemmeno nei 18 convocati, ha perso la testa, ha litigato anche con i compagni di squadra. E' stato messo fuori, non è stato multato, è stato messo fuori. Ha fatto una pagliacciata su Facebook, su questi social, il post che ha messo. E il pagliaccio di Turi l'ha commentato pure. Ma purtroppo, perché non parla nessun giocatore di campo a basso? Perché non parla del Dua, Danucci, Balistrieri? Per me infatti la chiudiamo... No, ma per me è una questione nata e chiusa, mi sono un po' dimenticato. Io penso che oggi non me ne voglio a Castelfiardo, però abbiamo giocato solamente noi. A parte che non ero un tiro in porta che hanno fatto, ma non ci hanno preoccupato più di tanto. Basket femminile di Serie A2, lo scorso fine settimana, sosta di campionato per dare spazio ad Alessandria alla Final 8 di Coppa Italia. Il Crema ha alzato la sua prima Coppa Italia ai danni del Bologna, 55-53 il finale. Nel prossimo fine settimana riprende la regular season la Molisana Basket Campobasso, torna al Palavazzieri, sabato arriva il Faenza. Calcio a 5 di Serie B, vittoria importante per la Chaminade contro il Capurzo. I Rossoblu sono già proiettati alla trasferta di Canosa. Cancio Rodriguez, dunque, una bella vittoria contro il Capurzo, un finale che vi premia. Avevate voglia di riscatto dopo la sconfitta di Ortona? Grazie mille, sì, una bella partita. Abbiamo dato una prestazione buona, penso, dopo Ortona, una partita brutta. Assolutamente, assolutamente. Devo dire, siete stati molto concentrati contro il Capurzo. Sì, sì, perché là, quando abbiamo giocato là, in andata, abbiamo perso 3-1. Qua la concentrazione deve essere in più. E quindi, insomma, serve questo per arrivare all'obiettivo playoff? Tutto summa, tutto summa. Questo è 3 punti buonissimo. Aspettiamo che arriviamo al playoff. Assolutamente, insomma, siete nelle zone alte della classifica dall'inizio del campionato, quindi avete voglia di restarci fino alla fine. Sì, il campionato si è fatto a lungo, è tanto infortunato e questo non ha passato a fattura. Penso che adesso in avanti miglioreremo e così. Un'ultima cosa, oltre al campionato avrete anche la vetrina della gara di Coppa di divisione contro una squadra di Serie A, quindi, insomma, sarà un onore per voi confrontarvi con dei giocatori di Serie A. Certo, un onore, un premio per la squadra, per tutto il campionato, insomma, l'obiettivo nostro è il campionato. Arrivare al playoff e questo della Coppa di divisione è un premio. Un premio per tutti. Un premio per tutti. È stata un successo l'edizione 2018 di Laboret Fides, organizzata dal Cus Molise. La manifestazione è diventata ormai da anni punto di riferimento per tutti gli appassionati del group cycling. Ha visto la partecipazione di oltre 150 riders provenienti anche dalle regioni limitrofe che si sono dati appuntamento al Palau Unimol per vivere tre ore all'insegna dello sport e del divertimento a sondi musica. Calcio regionale è stata rinviata mercoledì 7, la gara di ritorno della prima fase nazionale della Coppa Italia tra Bastogirardi e Giulianova. Antonio Crudele, chiaramente una partita meritatissima, Bastogirardi è stato impeccabile su ogni punto. Sì, abbiamo giocato bene, era importante ripartire dopo la sconfitta di Coppa dove siamo usciti a testa alta, quindi questa è una vittoria che fa molto morale, oltre che classifica ovviamente, era difficile. La Frentani è un'ottima squadra, però siamo venuti fuori, abbiamo dominato per tutta la gara, quindi è il risultato giusto. Ovviamente si parla del passo falso con i treppini, cosa è successo? È successo che abbiamo sbagliato l'approccio alla gara dall'inizio, loro sono stati più bravi di noi ma ormai è acqua passata, non pensiamo più a questa sconfitta, ormai è solo un ricordo. Noi, come dico sempre, dobbiamo fare tesoro dei nostri errori e cercare di non commetterli più in futuro, quindi andare avanti ed ora andiamo avanti, come è giusto che sia. Comunque oggi è stato un distacco permanente dell'Isegna, la guerra fra voi due continua? Sì, noi come dico sempre pensiamo al nostro campionato, noi siamo obbligati a vincere e vogliamo vincere sempre, indipendentemente dal pensiero se è quello dell'Isegna o quello di un'altra squadra. Quindi facciamo il nostro campionato e andiamo avanti. Sappiamo che non possiamo sbagliare, ovviamente, non possiamo sbagliare più, non possiamo commettere il minimo passo falso, forti di questa cosa andiamo avanti. Domani si torna in campo per i recuperi in eccellenza il Termoli al Cannarsa, ospita lo Spinete, gara rinviata domenica scorsa e valida per la settima di ritorno. Si ripeteranno i 90 minuti tra Guglionesi e Riccia, gara sospesa per Nebbia due settimane fa a 5 minuti dal triplice fischio di chiusura sul punteggio di 2-1 in favore del Riccia. Squadra in campo alle 15. A proposito della squadra Fortorina-Cicotelli. Presidente Dino Cicotelli, l'Olimpia Riccia non si ferma più. Ma io me lo auguro. Abbiamo vinto, diciamo, 7 partite su 7, perché dobbiamo metterci anche quella di domenica, in quanto non si poteva sospendere una partita a 5-6 minuti dalla fine. Tra l'altro, quello che dico, e lo voglio dire perché sono cose che non dovrebbero succedere, cioè fino all'1-1 tutto procedeva tranquillamente, abbiamo segnato noi, non si è capito più niente. Purtroppo le cose vanno così, c'è chi se la prende. Qui a Riccia queste cose non sarebbero mai successe, sinceramente. Tornando alla sfida con il Venafro, la sua squadra ha giocato in maniera impeccabile, sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico. Sì, l'abbiamo visto tutti, abbiamo fatto una grandissima partita. Devo ringraziare questi ragazzi perché mi stanno veramente rendendo felice in questo periodo di campionato. Dando uno sguardo alla stagione in generale, manca ancora tanto, dove si può arrivare? Ma guarda, noi avevamo due obiettivi, andare avanti in Coppa Italia il più possibile, ci siamo arrivati per un pelo e avere una squadra a raggiungere il quinto o sesto posto. Ci siamo quasi, se ci va bene forse scaliamo qualche posizione in più, speriamo. Dando uno sguardo a quello che invece è il gioco della squadra, si vede parecchio anche la mano di mister Cordò. Sì, infatti colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente, in quanto noi sapevamo che era una persona molto preparata, infatti lo conosciamo, gioca da anni, però lo sta dimostrando perché ha tirato su questa squadra, da una classifica che stavamo in zona rossa, infatti siamo quasi adesso in zona verde. Rinviato il recupero del campionato di promozione tra Castelmauro e Comprensorio Vairano, anche questo valido per la sesta di ritorno, è rinviato per Nebbia. Tornando al successo di Ferrazzano, il presidente del Castelmauro. Elio Sticca, presidente del Castelmauro, innanzitutto arriva un successo pesante e prezioso, dopo una partita saggia e attenta, i suoi hanno saputo colpire nel momento giusto, sono stati bravi anche a soffrire. Certo, è stata una vittoria importante, però io più che dalla vittoria, più di calcio, vorrei dire altre cose. Io direi che è umanamente impossibile nel 2018 andare in giro per i campi del Molise e avere un'accoglienza del genere da un tesserato federale che offende il collega, offende i giocatori, ho arroganza e presunzione, che pensa che il calcio si vince, le partite si vincere solo in questo modo. Non è così, il calcio è tutta un'altra cosa. Noi a Castelmauro addirittura facciamo il terzo tempo, qui invece ci hanno preso quasi con le mani addosso. Mi riferisco a una persona sola, perché i ragazzi del Ferrazzano sono comportati da giocatori, hanno perso la partita, hanno accettato la sconvitta, ma quello che è successo il dopo partita è una cosa, mi dispiace che non ci sono le riprese, perché sarebbero da squalificare, come minimo da squalificare a tutti. Siamo stati costretti, io personalmente sono stati costretti per salvaguardare l'ingolumità dei miei giocatori di chiamare la forza dell'ordine. Questo che è successo nel 2018, uno che fa il calcio per divertimento, è una cosa vergognosa. Naturalmente ci facciamo portavoce di questa denuncia, poi saranno gli organi competenti a risolvere il caso, ma tornando a parlare di calcio, che è quello prettamente il nostro mestiere, quindi la salvezza ormai è davvero a un passo, perché la classifica è davvero molto buona. Ebbè certo, oggi questi tre punti, sapevamo che era un campo difficile, sono venuti questi tre punti, abbiamo sofferto, e loro hanno giocato con grinta, con voglia di vincere le cose, siamo stati bravi, siamo stati ordinati, siamo stati direi anche un po' furbi, perché l'ultima mezz'ora abbiamo messo due punti freschi, che abbiamo dato fastidio in attacchio, e di fatto è arrivato il secondo gol. Per quanto riguarda la salvezza, noi la salvezza forse ci dovevamo meritare anche qualche partita prima, per come stiamo giocando. Abbiamo una partita da recuperare, quasi proibitive, perché il Vairana, una delle migliori squadre, insieme al Pietro Montecorvini, che secondo me è la squadra più forte del campionato. Ricordiamo che mancano tre punti, che gliel'abbiamo preso noi, ma loro avevano vinto sul campo. Noi l'abbiamo preso, perché abbiamo fatto un ricorso giustamente, l'abbiamo vinto, ma sul campo loro hanno vinto, hanno legittimato la vittoria quel giorno. Perciò secondo me Montecorvino è la squadra più forte del campionato. Noi invece questa salvezza forse possiamo già festeggiare. E poi magari se lottiamo per i play-off, se arrivano ok, altrimenti per noi è già un bel campionato così. L'Ururi con il successo ai danni del Casalnuovo ha mantenuto il suo piazzamento play-off. Silvio Campofredano, mister dell'Ururi, una vittoria contro Casalnuovo-Monte Rotaro, una vittoria importante, soprattutto per una squadra che è in zona play-off. Ci tengo a congratularmi con fare i complimenti alla squadra, perché con questi tre punti abbiamo raggiunto quello che era l'obiettivo all'inizio stagione, l'obiettivo primario, cioè la salvezza tranquilla. Penso che a 36 insomma gli altri dovrebbero fare un miracolo. E dalla prossima comincieremo a ragionare in maniera diversa, come ha detto lei, pensando alla zona play-off. I complimenti alla squadra, vanno fatti, perché comunque la squadra sta lavorando all'inizio agosto, i ragazzi hanno dato sempre e comunque tutto. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una neopromossa che non partecipa al cosiddetto campionato di serie bimolisano da diverso tempo, quindi per molti Erloscott è il noviziato. Quindi li abbraccio, gli faccio i complimenti, sono veramente fiero e orgoglioso di loro. La società ci è stata vicina, il pubblico è sempre stato vicino alla squadra, di conseguenza oggi è un bel giorno per festeggiare per tutti. Da martedì cominceremo a pensare in maniera diversa, perché è inutile nascondersi questa squadra ha delle potenzialità per poter ambire a ben altro. Mister, infatti nonostante mancavano alcuni titolari, la squadra non ha deluso. Ma qui non è che mancava qualche titolare, io ho 20 persone e sono tutti e 20 titolari. È ovvio che è facile parlare così, perché c'è chi gioca di più e chi gioca di meno, ma per me sono tutti titolari, tanto è vero che mancando i titolarissimi chi è stato chiamato dopo tanto tempo tipo il ragazzo del 99 Occhionero Saverio non ha fatto assolutamente rimpiangere il palombo che è il titolare, il titolarissimo, eccetera, eccetera. E questo lascio ben sperare. Dobbiamo semplicemente cambiare atteggiamento fuori casa e essere anche un pochettino più fortunati, perché comunque la fortuna alle volte ci gira anche le spalle, basta un minimo errore e veniamo puniti, cosa che non succede al contrario. Se riusciamo a cambiare atteggiamento, tra virgolette, fuori dalle muri amiche, ogni sogno potrebbe diventare realtà. L'occasione potrebbe essere nella prossima giornata. Chi vi attende fuori casa? Fuori casa andiamo a Castelmaro e mettiamola così. E' il crocevia, ecco. Tra noi e loro, perché loro e il Baranello erano il Baranello e Castelmaro le nostre inseguitrici per l'ultimo posto possibile per i pre-off. Andremo a Castelmaro, sappiamo che ci aspetta un bel ambientino come da tutte le altre parti, però siamo fiduciosi. Ripeto, ci vale un po' di fortuna e magari un cambio di atteggiamento come dicevo poc'anzi. Street Soccer, niente gare ieri al Pala Unimo. L'Ilma Tempo ha costretto a rinviare la terza giornata del 3 contro 3. Intanto però questa è l'ultima settimana per iscriversi al fantacalcio associato alla manifestazione. C'è tempo fino a lunedì. Prossimo, pallavolo femminile, Serie D. Vittoria netta della nuova pallavolo campo basso contro il Cordigeri. Raffaele Di Cesare, direi una bella vittoria contro Cordigeri condita da una prestazione davvero di livello. Sì, abbiamo giocato bene. Ora, prima ero lì a fare due chiacchiere con un responsabile della loro società e gli ho fatto una domanda se avevamo giocato bene noi oppure avevano giocato male loro perché poi in effetti in un gioco come la pallavolo è in tutti i giochi di squadra c'è sempre un avversario di fronte quindi a volte riesce difficile a fare una valutazione sulla sconfitta o sulla vittoria. Io penso che oggi noi abbiamo giocato bene tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto bene e in questo caso non abbiamo fatto giocare loro. Loro è una squadra molto buona in casa infatti hanno più punti di noi in casa giocano molto bene le abbiamo come diceva anche questo signore l'abbiamo annientati su ogni forma di iniziativa loro quindi penso che abbiamo fatto una bella partita. Quindi più merito vostro che demerito dell'avversario per ammissione dello stesso avversario questa vittoria cambia qualcosa a livello di classifica per quanto riguarda la posizione play out? È importantissima perché sicuramente questa squadra verrà a fare play out con noi quindi noi aver preso ormai tre più un punto fatto in casa loro sono dei punti che ce li portiamo dietro e quindi di conseguenza ci mette in una posizione di vantaggio rispetto a loro che è una bella squadra e quindi sicuramente dirà la sua in questa seconda fase. Perfetto direi che state bene non solo dal punto di vista proprio fisico ma anche mentale proprio perché vedevo abbracci feste ogni volta che si faceva un punto questo è sinonimo di freschezza dal punto di vista psicologico non so se sei d'accordo sono d'accordissimo è giusto quello che hai notato ci stiamo lavorando molto perché va detto questo oggi creare un gruppo squadra è molto difficile rispetto a qualche tempo fa e allora noi allenatori dobbiamo lavorare tanto su questo sono dei fattori importanti e sono dei fattori soprattutto in squadre come siamo noi dilettantistiche questi fattori danno danno quel quid in più e oggi non è facile insegnarlo quindi ci stiamo riuscendo sono contento adesso vediamo i risultati maturati in seconda categoria 17 giornata nel girone A della seconda categoria Giovanni Castropignano Sant'Angelo 8 a 0 Giovanni Morconi Novo Pettoranello 6 a 2 Gioventù Macchiagodena Miranda 2 a 4 Campo Chiaro Fossaltese 1 a 2 Montenero Sassinoro 2 a 1 Sepino Castello Matese 7 a 1 Torre Piccilli Salcito 3 a 1 42 Torre Piccilli Montenero 40 Miranda 33 Sepino 31 a 30 C'è il Castropignano a 20 Sera Fossaltese di seguito le altre Odax Toro Tufara 2 a 0 Celenzia San Felice è stata rinviata Fiamma Folgore Muxo Muffoni 0 a 3 La seconda Baranello San Giovanni Ingaldo 3 a 3 Morgia Fiedracatella Rocca Vivara 0 a 3 Oratino Ripabottoni 1 a 4 Rinviata San Marco La Catola Mafalda Ripabottoni 27 Rocca Vivara 34 Celenzia 33 31 C'è il Mafalda 30 Muxo Funi 26 Fiamma Folgore Di seguito le altre E' tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio